Per una migliore combustione è preferibile l'uso di legna spaccata e con umidità inferiore al 20%. È consigliabile acquistarla alla stagione prima e accatastarla in luoghi asciutti e ventilati, possibilmente non a nord. La legna ad ardere umida risulta piuttosto pesante. A poche spaccature la corteccia non si stacca e può presentare funghi. La sua combustione provoca fumo, in cui ne crea detriti che si depositano nella canna fumaria. Inoltre produce meno calore e risulta più difficile accenderla. La legna ad ardere secca risulta essere molto leggera, presenta spesso larghe fessure e la corteccia tende a staccarsi. La sua combustione consente di ridurre i consumi di legna e di ridurre al minimo l'emissione di fumo. Per riconoscere se la legna è asciutta o umida esiste anche un sistema che consiste nel buttare a terra un tronchetto. E se il rumore all'impatto al suolo è cupo, vuol dire che è legna umida. I tipi di legna ad ardere da preferire sono quercia, frassino e faggio, perché entrambi hanno un ottimo potere calorico. La misura ottimale per i forni a legna pizza party è 30-40 cm di lunghezza e 3-7 cm di diametro. Vi consigliamo di evitare legni resinosi, il pino, legna umida, cartone, legni trattati, legni verniciati, legni laccati, materiali plastici e accendi fuoco chimici.